Lo facciamo con passione, non siamo professionisti, speriamo di fare una figura accettabile, però lo prendiamo comunque come un grande impegno. Intanto perché è solidarietà, quindi per prima cosa quello, e poi perché credo sia un bello spettacolo, una cosa carina da vedere. È un spettacolo che parla della cooperativa e dei suoi 40 anni, quindi c'è anche una valenza, soprattutto per i dipendenti coppia, per quelli che lavorano con i nostri colleghi di lavoro. E poi perché penso che alla fine si divertiranno, perché poi lui ci sta divertendo, abbiamo fatto anche qualche sessione insieme e ci siamo divertiti, veramente, anche a vederci l'un l'altro, penso che se non sarà simpatica. Perlomeno sicuramente ci impegniamo tanto, poi vediamo, spero.